community di innovazione è una delle linee di intervento del progetto italie promosso dal dipartimento per gli affari regionali le autonomie finalizzata a superare la frammentazione amministrativa e a migliorare il governo locale le linee di intervento del progetto italie sono rafforzamento amministrativo digitalizzazione dei servizi sviluppo del territorio a queste se ne aggiunge una quarta con funzione di osservatorio sui processi di riordino la linea di intervento focalizzata sulla digitalizzazione dei servizi è attuata da forme cpa community di innovazione l'obiettivo di community di innovazione è analizzare il contesto organizzativo e tecnologico dei territori per favorire il riuso di modalità operative e pratiche digitali già collaudate in grado di promuovere lo sviluppo e il consolidamento dei sistemi intercomunali ma anche individuare nuove possibili soluzioni da trasferire il team di community di innovazione accompagna gli enti interessati che hanno aderito al progetto italie in un percorso di conoscenza dei propri fabbisogni e delle proprie potenzialità per arrivare a individuare le pratiche digitali più rispondenti alle esigenze del territorio anche in un'ottica di riuso di soluzioni collaudate da altre pa. Destinatari dell'iniziativa sono associazioni di comuni unioni montane unioni di comuni comunità montane aree interne ad oggi sono sette le aggregazioni comunali affiancati dal team di community di innovazione una comunità in crescita verso la modernizzazione in cui aggiornarsi e condividere esperienze per entrarne a far parte basta inviare una manifestazione di interesse al progetto italie